Ora, come vedete al piccolo spoiler, siamo per passare a un prossimo argomento, finiamo ancora una parte introduttiva in cui, ripeto, adesso alcune cose sono ancora abbastanza oscure, come questi punti, come le funzioni, che sarà il tema che affronteremo successivamente nel dettaglio con cura e fatto molto bene. Andiamo a vedere però effettivamente perché non bisogna usare Eni. Innanzitutto andiamo a vedere se ridefinissimo questa parte, non voglio confondervi, quindi la cancello, anzi facciamo che la commento, facciamo che la tengo, basta, 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 la sposto solo tanto giù perché è un topic avanzato e non voglio avere le cose lì che sono confusionare. Andiamo a vedere perché non bisogna usare Eni. Partiamo dal fatto che se io andasse a definire la mia funzione che si chiama letHero e lo chiamasse appunto flash, lui comunque, come vedete, va a inferire quello che è il tipo di Hero, che sarà appunto una stringa. Ma ne vogliamo andare ad essere più specifici. Ora, se io appunto andassi a definire la function, chiamiamola function getHeroName, la definisco e vado semplicemente a dire che ritorna, ritorna, evviva. Anche in questo caso andrà a inferire il tipo che viene ritornato, quindi ritorna una stringa, ci viene detto. Quindi se andassi a dire che Hero è uguale a getHeroName, tutto funzionerebbe in maniera, voglio scrivere evviva, va anche evviva, va bene lo stesso, scambiamo un po' di lettere. Va benissimo anche questo. Ecco che tutto funziona a meraviglia, ma se io appunto andassi a dire che qua ho questo return as any e vado a forzare, oppure anche vado a dire che ritornerà un type di any, ecco, non avrò più nessun errore. Se io qua mettessi ad esempio che ritorna true, ecco che tutto quanto funziona. Perché? Perché sta ritornando any. Any ovviamente vuol dire che ritorna ogni cosa, ma il mio essere una stringa non mi dà più la garanzia di ottenere effettivamente che questo rimanga una stringa. E se tutto il codice che c'è dopo si vado sul fatto che questo sia una stringa, non avrò nessun avvertimento e tutto quanto si romperà. Ecco perché non si deve usare any. Perché adesso se io togliesse ad esempio any da questo punto, ecco che il mio typescript si metterebbe, come dice un gioco tecnico simpatico, a piangere. Perché iro appunto non è più una stringa. E il gioco non è non far piangere typescript, non avere errori nel nostro VS Code o dove stiamo scrivendo codice, nel nostro editor di codice. Il gioco non è quello, il typescript non è un nemico. Se io qua devo avere una stringa, qua devo avere una stringa, ok? Cascasse il mondo. Non è che se io qua metto any, sì, ok, risolvo il problema, non ho più nessun errore, tutto cumplerebbe. Ma effettivamente qua non sta funzionando come vorremmo noi, ok? Il gioco non è risolvere l'errore di typescript e andare avanti con il codice, è ottenere il miglior risultato possibile. Questo è il motivo per cui bisogna limitare al massimo quello che è l'utilizzo di any, perché si risolve il nostro problema lato editoriale, ecco non abbiamo più un problema nell'editor, ma poi le nostre funzioni, il nostro codice non è più safe, ok? È proprio l'ultima risorsa con cui noi possiamo andare a lavorare. Grazie. Grazie.